È bastato fare un video in cui ho accennato brevemente, perché la mia era solo una considerazione ad una ipotetica crisi del settore delle biciclette, che molti di voi mi hanno scritto dicendo che la colpa è degli incentivi. E su questo sono d'accordo, ma non solo, cioè la visione che danno della crisi è che mancano gli incentivi. E su questo non sono d'accordo, cioè l'incentivo sicuramente pompa il mercato e, come dice la parola stessa, incentiva l'utente all'acquisto di bicicletta. Però, se noi facciamo quello che abbiamo fatto nel 2021 e nel 2020, cioè usiamo l'incentivo per acquistare una bicicletta da corsa andando a rivendere quella che già abbiamo in casa e con la somma raccolta dalla vendita e l'incentivo ci compriamo una bicicletta nuova, capite bene che l'incentivo non serve a niente. Perché non serve a niente? Perché l'incentivo dovrebbe servire per avvicinare colui che ancora non ha acquistato una bicicletta, non per forza da corsa, anche una bicicletta elettrica, anche una bicicletta, diciamo così, da pendolarismo urbano, ad acquistare una bicicletta. In quel caso l'incentivo ha una nuova funzione, cioè si crea un nuovo utente su due ruote, due ruote ecologiche ovviamente. Perché l'utilizzare l'incentivo per comprare una bicicletta da corsa non va incontro alla finalità dell'incentivo e del legislatore. L'incentivo infatti serviva durante gli anni 2020-2021 per dire, ok, i mezzi pubblici sono inutilizzabili perché c'è il Covid, riscopriamo la mobilità dolce, liberiamo le città dalle auto, io ti do 1000-2000 euro per comprarti una bicicletta. E devi però sostituire la tua auto ad una bicicletta. Se lo fai, l'incentivo ha funzionato. Se io invece, Davide Petrini, voglio vendere la mia Giant e con il ricavato e con l'incentivo comprarmi una nuova bicicletta da corsa e continuare ad andare a lavoro o a spostarmi in città con la mia Skoda Yeti, è chiaro che l'incentivo non serve a niente. Quindi il mercato delle biciclette è in crisi, sì perché mancano gli incentivi, perché quando un settore è in crisi l'Italia ha molto da insegnare. Prendete ad esempio le crisi del settore automobilistico degli anni 70, dove la Fiat è stata sommersa di incentivi o venivano dati gli incentivi a chi comprava un'auto nuova proprio per rilanciare un settore. Ok, però qua è diverso, cioè qui non stiamo parlando delle biciclette da corsa, qui stiamo parlando di sostituzione del mezzo con cui ci si sposta, cioè di uno split di mobilità. Allora l'incentivo funziona ed è giusto che torni se c'è un passaggio da mobilità fossile a mobilità, diciamo così, dolce, quindi bicicletta. Se l'incentivo lo do ai cicloamatori per comprare la bicicletta nuova con cui andare a fare lì a gran fondo, dà comunque una spinta, ma non è così forte e non ne beneficiano tutti, perché l'incentivo è un qualcosa che dovrebbe portare un beneficio alla comunità, non soltanto a chi beneficia di quella somma. La comunità ne trae beneficio se si abbandona la mobilità fossile per tornare a spostarsi con un mezzo ecologico, che può essere la bicicletta. Ne beneficia il produttore, ne beneficia il distributore, ne beneficia la rete di manutenzione, ne beneficia anche tutta la comunità che vive in un mondo sicuramente meno inquinato da smog e PM10, o PM5, o PM3, chiamateli insomma come volete. Ok? Quindi non venitemi a dire che è colpa dell'assenza di incentivi. Gli incentivi ci sono stati e secondo me sono stati utilizzati male, perché comprarsi la bicicletta da 8.000 euro con un incentivo solo per andare a fare le gran fondo non serve, non serve alla comunità, serve solo a te stesso che hai risparmiato 2.000 euro, con i soldi tra l'altro pubblici. Quindi, fine della polemica, il mercato è in crisi perché mancano gli incentivi, ma non solo perché sono stati usati male, perché c'è stato un cambio di mentalità, che è durato pochissimo, finita la pandemia siamo tutti tornati in auto e qualcuno ha anche rivenduto le biciclette. Sono molti i fattori che hanno portato alla crisi, ma non dipende solo dall'incentivo, ok? Fatemi sapere che cosa ne pensate, noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Buona raramente alla prossima, ciao! Ciao!